Pesaro chiama Italia, Italia risponde. Uno slogan che ricorda come da tutto lo stivale si stiano dando appuntamento a Pesaro, associazioni e attivisti per dire no ai biolaboratori BSL3 e BSL4 nel nostro paese. Pesaro è stata presa infatti come caso simbolo nazionale. Qui in zona torraccia dovrebbe infatti nascere il biolaboratorio approvato dalla delibera comunale dello scorso ottobre che ha dato l'ok all'alienazione del terreno edificabile per l'ampliamento di funzioni dell'istituto zooprofilattico Togo Rosati. Un caso che da ottobre ad oggi è stato al centro di più manifestazioni di dissenso allargatesi a macchia d'olio dalla dimensione locale a quella nazionale con la prospettiva di raggiungere un apice proprio nel giorno della festa dei lavoratori. Sarà una manifestazione mossa dal dissenso da scelte politiche reputate lesive della salute pubblica. L'organizzazione dell'evento ha da tempo bypassato la dimensione locale e sui social spopolano organizzazioni di pullman che vanno dal Trentino alla campagna in direzione Pesaro. Organizzazione che ha avuto un dialogo con la Questura nel quale si è deciso un cambio di sede, non più a campo di Marte di Baia Flaminia, luogo più prettamente turistico per il primo maggio, bensì in piazza Stefanini davanti alla vitrifigo arena a due passi da via Furiassi e via Grande Torino dove è prevista la realizzazione del biolaboratorio. Zona torraccia in cui muoverà un corteo, un raduno e otto ore di interventi dalle 10 alle 18 in cui decine di relatori esporranno le ragioni del no al biolaboratorio compreso il giornalista Franco Fracassi un cui post social virale sta chiamando alla dunata tutta Italia. Abbiamo da comunicarvi un cambio di piazza per il primo maggio a Pesaro. Al grido d'aiuto dei cittadini liberi di Pesaro di qualche mese fa che dissentivano della costruzione del biolaboratorio BSL3, BSL4 nelle loro città hanno risposto davvero in tanti. L'Italia tutta si sta muovendo e questo fa ancora più capire quanto ciò che sta accadendo sia importante per la popolazione. La cittadinanza di Pesaro purtroppo non era preparata a tanta attenzione e così dopo una lunga contrattazione con la questura siamo arrivati a un accordo in cui abbiamo ottenuto un luogo più idoneo per far sì che la grande affluenza delle persone venga a conto in maniera sicura e adeguata. La nuova location per la nostra manifestazione è Piazza Stefanini, ripeto Piazza Stefanini.